guarda io non ho parole non ho parole dico solo che schifo un derby così ragazzi un derby della capitale così non me l'aspettavo era una partita importante per entrambe le squadre che si giocavano tutto si giocavano tutto perché sia Roma che Lazio si giocavano tutto finisce 0 a 0 la Roma che era pure partita bene poi si è ripresa un po' la Lazio la Roma si è abbassata finita 0 a 0 sono arrabbiato più che altro perché comunque perché comunque tu oggi dovevi tirare fuori quegli attributi e non l'hai fatto innesi la prestazione che ti sono mancati gli attributi la paura ha prevalso oggi oggi è proprio perché una Lazio così negli ultimi derby nell'ultimi Lazio-Roma l'ha vinto tutti quanti la Lazio e oggi non ha fatto una buona partita la Lazio tu devi approfittare di questo non di questa diciamo non prestazione che c'è avuto a parte qualche tiro da fuori mi viene in mente di Luis Alberto la traversa che ancora trema e il tiro di Cristante che c'è stato praticamente il gol annullato giustamente fuori gioco non è che ci sono state grosse occasioni la Roma che ha tirato una volta a nuovo specchio il gol di Cristante che è stato annullato e poi qualche due tiri mi pare di Garstop oggi poca roba davanti abbiamo fatto pena come al solito che amarezza guarda un derby così proprio tristezza una tristezza stavo in live vi invito a rivedere appunto una live reaction trovate qua sopra nelle schede a fine video mi veniva la piagna mi veniva la piagna guarda la depressione la depressione perché era una partita io carico a mille dico o vinco o perdo ma voglio farla voglio giocammela voglio giocamela sì giocamela tutte e due impaurite a tratti avevano avevano espresso bene nel primo tempo poi nel secondo tempo la Roma non c'è mai stata in campo nel secondo tempo solo la Lazio ha fatto qualcosina nel secondo tempo per il primo tempo meglio la Roma nel secondo tempo meglio la Lazio ma complessivamente uno 0-0 che non sa né di carne né di pesce un punto a testa che non serve a nessuno delle due perché ne approfitta la Fiorentina ragazzi la classifica ora ve ne parlo prima ciao ragazzi e bentorni in questo video qui e già oggi siamo qui ragazzi in un nuovo video siamo qui per scomentare commentare i post partiti di Lazio Roma derby della capitale questo post partita sarà cortissimo lo sto registrando anche in ritardo lo so sono consapevole perché so già che questo video non andrà e quindi lo sto registrando dopo ci ho avuto da fare delle cose dopo la partita quindi ho tardato qualche minuto nella registrazione non vi voglio far parte troppo tempo vi invito subitissimo a lasciare un mi piace un commento dove la posta qua sotto se ve lo aspettavate una partita del genere oppure ve aspettavate che vinceva la Lazio oppure ve aspettavate a sorpresa che vinceva la Roma io onestamente avevo previsto una partita simile una partita comunque con pochi gol una partita chiusa Mizzio infatti aveva detto se tanto finisce 0-0 vedrai tu tutti quanti che ha paura stiamo e c'ha avuto ragione io mi aspettavo una partita così ma non mi aspettavo magari qualcosina un po' di movimento in più magari un 1-1 sarebbe stato già più piacevole da vedere però vince 0-0 vi invito comunque a iscrivervi al canale attivate la campana per venire a già tutta quanta settimana vi invito a recuperare i scorsi video trovate qua sopra le schede a fine video anche la live reaction vi lascio bloccate nel primo commento e vi invito dopo a vedere il post partita di Inter-Frosinone che sicuramente vincerà l'Inter però diciamo è stata una partita questa sera una partita brutta come si può dire mi era piaciuto come era partita la Roma nei primi 20 minuti 25 minuti era partita molto bene attaccava tanto sulle corsie esterne da una parte Spinazzotti dall'altra parte Carsdopp che stava facendo bene aveva fatto due tiri e non è da Carsdopp e poi il fatto di prendersi a centrare e tira in porta oggi però ci credeva il ragazzo l'olandese però insomma la partita poi è andata sempre calando Lukaku che non so gioca tutta la partita a ritrato pareva che stava a giocare a centrocampo non ho mai visto fare una sponda un tiro o un porta non mi ricordo tiri di Lukaku onestamente altrettanto di Dybala partita triste la Lazio i tiri da fuori di Luis Alberto tante ammunizioni è stata partita abbastanza dal punto di vista c'è stato diversi cartellini tre da parte da Roma e due da parte da Lazio se non erro partita insomma a parte il pareggio che non serve a nulla è una partita triste ragazzi non so non so neanche che di nel post partita perché non ci sono state tante occasioni la Lazio a tratti ha avuto molto possesso palla quando la Roma attaccava puntualmente aveva più possesso palla la Lazio quando attaccava la Lazio aveva più possesso palla la Roma per dirvi infatti la partita finisce 51% possesso palla la Roma ma diciamo più o meno è stata una partita equilibrata giusto il pareggio giusto il pareggio sì c'è stato un tiro se non erro di Immobile fuori un tiro di Felipe Anderson sempre fuori e c'erano stati due tiri di Luis Alberto uno c'è stata la parata no sul colpo di testa di Romagnoli cross di Luis Alberto col colpo di testa di Romagnoli c'è stata la parata di Luis Patricio l'unica parata fatta da Luis Patricio e poi insomma noi abbiamo ci hanno annullato un gol al primo tempo loro hanno preso sempre nel primo tempo la traversa con Luis Alberto palo traversa non mi ricordo era vicino all'incrocio insomma ha preso il legno pure la Lazio e finisce così sullo 0-0 avevo paura che davano nel finale un rigore alla Lazio avevo veramente paura vedrai tu va a finire 0-0 gli ultimi minuti danno a rigore alla Lazio e sappiamo in saccoccia invece finì a 0-0 ci ha detto pure bene guarda tutto sommato oggi dobbiamo approfittare della Lazio così in un derby dobbiamo cercare di tirar fuori gli attributi che non ci sono stati non c'è stata la paura a prevarsi sulla forza sul coraggio ragazzi la paura a prevarsi sul coraggio su entrambe le squadre comunque leggo la classifica la Roma che rimane lì settima viene scavalcata dalla Fiorentina che va sesta in classifica a 20 punti meno male che l'Atalanta e il Napoli hanno perso perché comunque l'Atalanta che ha pareggiato il Napoli che ha perso quindi non si allungano più di tanto perché Napoli rimane a 21 l'Atalanta rimane a 20 la Fiorentina che va a 20 noi rimaniamo puntualmente a 18 insieme al Bologna che ha perso con la Fiorentina e la Lazio a 17 cioè veramente la classifica piange ragazzi la classifica piange io non ho se immagino a fine anno dove arriverà la Roma scrivetemi sotto nei commenti io vi invito a iscrivervi al canale attivate la campana già preso tutto e noi cominciamo al prossimo video ragazzi sempre comunque forza il calcio vamos sempre forza Roma sempre avanti la Roma ciao